abbiamo detto che gli uni erano fortissimi e bravissimi guerrieri, spesso si trovavano ad entrare in conflitto con la popolazione confinante che era quella dell'impero cinese, questa ovviamente è una cartina moderna ma serve semplicemente per farti capire di quali stati, di quali luoghi stiamo parlando. L'imperatore cinese per difendersi da questi continui attacchi, visto che le ambasciate, i trattati non erano mai riusciti a tenere lontani gli uni dal territorio dell'impero, fece costruire un'imponente muraglia che correva per migliaia e migliaia di chilometri nel tentativo di sbarrare la strada a questi guerrieri tremendi. Alla fine di questa presentazione andremo un po' ad esplorare questi luoghi ma ora proseguiamo. Nonostante questi tentativi da parte della popolazione cinese nel secondo secolo avanti Cristo gli uni riuscirono a conquistare e a sottomettere l'impero cinese e costrinsero i suoi abitanti a pagare il famoso tributo. Quello fu il momento in cui i lunni raggiunsero la loro massima espansione. A quell'epoca non c'era nessuna popolazione che riuscisse ad adeguagliarli. Ma i cinesi non si rassegnarono e dopo circa un secolo inventarono un'arma micidiale, la balestra. La balestra riusciva a scagliare le frecce con una potenza e una precisione decisamente superiore a quella dell'arco, arma in cui già lo sai gli uni erano bravissimi. Grazie anche a questa nuova arma i cinesi riuscirono a scacciare dal loro territorio gli uni e a rimandarli al di là della muraglia. Ma l'impero cinese era un impero ricco, molto molto raffinato, la sua civiltà e anche la sua cultura erano decisamente superiori a quelle degli uni e gli uni si erano abituati bene. Dopo aver vissuto tra stoffe di seta e grandi palazzi pensi che avessero voglia di tornare nelle loro capanne mobili? Neanche per idea. Così decisero di andare alla conquista di un altro impero di cui avevano sentito raccontare dai mercanti che circolavano in quelle zone, l'impero romano, che all'epoca era ancora un impero molto ricco e molto importante, molto famoso. Il viaggio però è molto lungo, devono attraversare praticamente tutta l'Asia, quindi era necessario organizzarsi bene. Per prima cosa gli uni eleggono un'orda, cioè in pratica un capo che doveva prendere il comando assoluto. Questa era un'iniziativa che gli uni prendevano solo in casi eccezionali. Gli uni vivevano insieme in una grande tribù, divisi in clan, ma non esisteva un re degli uni. Questo capo dell'orda veniva eletto solo in casi eccezionali e questo lo era. Occorreva un uomo che comandasse questo grandissimo spostamento, anche se l'accordo era che se il capo non avesse funzionato, gli uni l'avrebbero cacciato. Verso la metà del primo secolo dopo Cristo, l'orda abbandonò le terre della Mongolia e si diresse verso ovest. Una marcia veramente molto molto lunga che durò per ben 250 anni. In più il gruppo originario diventava sempre più grande perché passando di territorio in territorio si aggregavano altre popolazioni nomadi, tutte col miraggio di arrivare alle grandi ricchezze dell'impero romano. Ad un certo punto i gruppi si divisero. Un gruppo si staccò e si diresse verso la parte settentrionale dell'India dove c'era un regno che venne saccheggiato e distrutto. Un altro gruppo penetrò nell'impero persiano, oggi è l'Iran, e anche qui fecero un grande bottino. La maggior parte però degli uni proseguì il suo cammino e arrivò fino al cuore dell'Europa centrale. Guarda attentamente che cosa successe. Questi sono i confini dell'impero romano. Allora, qui abbiamo l'impero romano d'Occidente, qui abbiamo l'impero romano d'Oriente. Questo, segnato in verde scuro, è il Limes, ovvero il confine, che in questa zona coincideva con il corso del fiume Danubio. Al di là del confine con l'impero romano d'Occidente, non è che c'era una terra completamente disabitata, al contrario, c'erano numerosi gruppi di Germani. Gli uni arrivarono in questa zona e questi gruppi furono costretti a spostarsi sempre più vicino ai confini dell'impero romano. Tieni bene a mente questa situazione, perché questa sarà una delle cause per cui l'impero romano d'Occidente arriverà alla sua fine. Ora andiamo a curiosare un po' la grande muraglia cinese. Come facciamo? Apriamo Google Chrome e digitiamo Google Art. Scegliamo Google Art. Avvia Google Art e guarda cosa succede. Benissimo, questa è la nostra terra. Clicca dove c'è la lente di ingrandimento e digita Grande Muraglia Cinese e scegli ovviamente Pechino Cina. Ecco qua. La grande muraglia cinese è un sito storico, è una delle antiche meraviglie del mondo, attraversa la Cina per più di 8.900 chilometri. Andiamola a vedere da vicino. Questa immagine satellitare ti fa vedere la costruzione della muraglia. La puoi riconoscere perché queste qua, avviciniamoci un po', sono le torrette che hai visto prima. Sono le torri di guardia. Ed è una costruzione veramente, veramente immensa. Andiamola a vedere più da vicino. Clicca qui dove c'è l'omino e poi clicca uno di questi punti blu. Guarda cosa succede. eccoci sulla muraglia. Questi sono i camminamenti e qui puoi vedere tutto lo sviluppo della muraglia. Un'impresa veramente incredibile. Adesso sei in grado di continuare la tua perlustrazione da solo. eccoci sulla muraglia. eccoci sulla muraglia.